In nome del nostro presidente Venustiano Carranza. Ferma! Perché hai decorato dei criminali? Hanno ammazzato donne e bambini! Hanno torturato i peones! Si sono scoperti d'infamia! Hanno depredato, violentato, massacrato, sterminato dei poveri innocenti! E ora, tigri del Messico, io vi maledico! Ma quel fratello ha zitto! In nome dei padri! Esferi! Esferi costanti! Amen! Il ruggito di mille fucili riecheggiava pauroso tra valli e serne. Un grido lo sovrastava. Che viva Mexico! E' il cuncio! E' il cuncio e' il del tambor! E' il libertador! Il liberatore! Un uomo con due insaziabili bocche da sfamare. La sua e' quella del suo Mauser. Bill Tate, il gringo, l'americano. Perché nascondeva una pallottola d'oro? C'è una taglia su di me. E quanto vales tu? Quanto dinero? Meno di un treno. Americano, 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 pequeño corazón, mucho dinero. Que condecorado estás? Te matamos hoy o te matamos mañana? Te matamos hoy o te matamos mañana? Io darò un plasso! Fermo, fermo, fermo! Questo senor americano. Io sono il comandante, colonnello Hernández Montoya. E lassù, sobretodos, il generale Lias con le sue truppe di guerrillieri votati alla morte. I tuoi compagni di San Miguel sono morti, tutti. E tu guadagni 5.000 pesos. Fammi ammazzare. Ramírez! Si, mi generale. No, e' a me che aspetta a punirlo. E' mio fratello. Sangue mio. Adelita, la femmina selvaggia e ardente che aveva il fuoco nelle vene e nel pugno. El santo, Pepito, Eufemio, El pícaro, Vincente, El guapo, gli uomini del cuncio, giocavano la vita per pochi pesos, in mucha libertad. And�. Sagite,ercari. Andate. Andate. Ogsi nois. Grazie a tutti.